Rolex Oyster Perpetual 41. L'evoluzione dell'eleganza e della precisione. L'Oyster Perpetual 41 mm è un capolavoro di orologeria che rappresenta il risultato di decenni di perfezionamento nell'arte di creare orologi di eccellenza. Questo modello offre un equilibrio straordinario tra dimensioni generose e raffinatezza senza tempo. Il nome Oyster Perpetual è sinonimo di eccellenza e rappresenta due caratteristiche fondamentali dell'orologio. Oyster fa riferimento alla cassa ermeticamente sigillata, una delle invenzioni più rivoluzionarie nella storia dell'orologeria. Questa cassa è progettata per proteggere il movimento interno dall'ingresso di agenti esterni, come l'acqua e la polvere, garantendo un funzionamento impeccabile in qualsiasi situazione. La tecnologia Perpetual, d'altra parte, fa riferimento al movimento automatico. Un sistema rivoluzionario che sfrutta il movimento naturale del polso per fornire l'energia necessaria per far funzionare l'orologio. Questa innovazione ha stabilito nuovi standard di precisione e affidabilità nell'orologeria, garantendo che l'Oyster Perpetual sia sempre pronto a segnare il tempo con la massima precisione. L'Oyster Perpetual 41 mm rappresenta l'essenza dell'orologeria di lusso. La sua capacità di adattarsi a diverse situazioni, mantenendo al contempo uno stile senza tempo, è una testimonianza della sua versatilità e dell'attenzione ai dettagli che Rolex dedica alla creazione di ciascun orologio. Questo modello è più di un semplice orologio, è un simbolo di status, raffinatezza e successo. Gli uomini e le donne di successo, così come le personalità influenti, lo indossano con orgoglio, riconoscendo il suo valore intrinseco e il suo status iconico. L'Oyster Perpetual 41 mm è un'opzione ambita per coloro che cercano la massima qualità nell'orologeria di lusso. Tra le variazioni più celebri dell'Oyster Perpetual 41 mm, spicca il modello Celebration, introdotto nel 2023. Questo orologio è stato progettato per celebrare l'eredità storica del Rolex Oyster Perpetual attraverso un design unico e allegro. Il quadrante è adornato da una serie di bolle colorate che richiamano i quadranti storici dell'Oyster Perpetual. Questo motivo conferisce al quadrante un aspetto vivace e gioioso, unendo design giocoso all'eleganza senza tempo che caratterizza la linea Rolex Oyster Perpetual. Il modello Celebration incarna l'idea di festeggiare il passato di successo del Rolex Oyster Perpetual, mentre guarda con fiducia al futuro. La sua eredità di eccellenza e il suo impatto duraturo confermano il suo posto tra gli orologi più iconici e apprezzati dai collezionisti di tutto il mondo.